Stiamo aspettando risposte da voi perché qua il paese sta nelle mani vostre, non vi dovete stare lì a fare i calcoli elettorali, prendo il 30% Ma chi li sta facendo? Eh no, state facendo così, però cercate di parlare perché qua la gente ha bisogno E guarda come sto qua a parlare, però con i fatti come dice lei Però considera che ancora non ci siamo, neanche non siamo neanche ancora entrati nelle commissioni Cioè ci dovete, purtroppo ci stanno dei tempi istituzionali di lavoro Se fare tutto quello che dici tu che è sacrosanto, ci vuole un minimo di tempo per entrare e dividerci Sì, ma ci vuole pure dialogo, la gente non sa nulla, va votato però non sa nulla Quindi tu ritieni che ci sia poca comunicazione? Sì, ma non so se fate male, però dico comunque la gente vuole sapere in che direzione sta andando Perché oggi la gente si ammazza, quello che fa sta nel casino Certo, ti dicevo che lo porterò, insomma questa tua esigenza la porterò in assemblea e ne parlerò con gli altri Noi riteniamo che in questo momento sia per noi doveroso lavorare e strutturarci, organizzarci il prima possibile Per riuscire una volta entrati nelle commissioni a leggiferare e parlare con i fatti